Come preparare la crema al caffè fredda che è possibile trovare in alcuni bar. Per farlo vi basterà reperire i seguenti ingredienti. 130 millilitri di caffè amaro liquido. 50 grammi di zucchero a velo. 150 millilitri di panna per dolci già zuccherata. Inoltre, per la preparazione della crema sarà necessario avere una caffettiera, un frigorifero, una bottiglia grande, anche di plastica, un imbuto. Queste le fasi di preparazione della ricetta. Preparare il caffè con una norme ikmoka. Versare 130 millimetri del caffè in un contenitore e conservare in frigorifero. Nel frattempo, infilare l'imbuto nella bottiglia e inserire dall'imbuto 50 grammi di zucchero a velo. 150 millilitri la panna per dolci già zuccherata ed infine i 130 millilitri di caffè amaro che avevamo conservato in precedenza nel frigorifero. Agirate energicamente la bottiglia per alcuni minuti in senso verticale. La vostra crema fredda al caffè sarà pronta per l'uso. Va servita fredda, anche con l'aggiunta di scaglie di cioccolato o cacao in polvere. La rimanenza può essere conservata in frigo per poi essere nuovamente agitata nella bottiglia prima di essere servita. Grazie! Grazie! Grazie!